buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi giovedì 4 maggio 2017 allora una data importante per tutti noi di fano tv perché oggi c'è lo switch della frequenza quindi ve ne parleremo al termine lo avete appena visto nel clip registrata ma ne parleremo due secondi alla fine di questa resegna stampa allora intanto andiamo a vedere il santo di oggi poi il tempo e i titoli oggi è san floriano di lorch il sole sorto le 5 55 tramonterà le 20 e 15 allora il tempo il tempo oggi cambia peggiora a parte che non è stato mai un granché in questi giorni il vento a disturbare notevolmente le giornate anche soleggiate a volte ma un vento fastidioso e laddove c'era l'ombra anche fresco dunque il tempo per questa mattina lo vedete con la grafica di trebimeteo.it pioggia nella parte interna della nostra regione mentre nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad aumentare anche se la pioggia vedete rimarrà soltanto nell'entroterra e nella parte centrale della regione la costa potrebbe non vedere la pioggia anche se in serata poi alla fine la pioggia arriverà anche nella provincia di pesero e urbino la notte poi migliora e domani invece venerdì 5 di maggio il cielo sarà prevalentemente sereno su tutta la regione Marche vedete anche il pomeriggio e poi la la serata il weekend il fine settimana come sarà sarà eccolo qui vedete mattino soleggiato poi verso sera il tempo tornerà a cambiare e praticamente tornerà la pioggia anche se alternata delle schiarite soprattutto nella parte centro settentrionale della regione uno sguardo anche a domenica una domenica che poteva essere una giornata da passare magari in spiaggia o comunque cominciando a prendere il primo il primo sole con le maniche corte per esempio però probabilmente bisognerà ancora attendere un po ma per le previsioni di domenica bisognerà ancora vedere i modelli nelle prossime ore modelli chiaramente del matematici dei previsori meteo allora andiamo subito a vedere i giornali cominciamo dal dal resto del Carlino di questa mattina la prima pagina è per le ecografie con lo sconto questa è la fotografia l'esperimento di una cooperativa di Montefelcino che offre prezzi calmierati per tutte le fasce di reddito e in molti casi si risparmia e si saltano anche le liste di attesa Garofani Rossi per l'addio a Scriboni sentita cerimonia ieri appesa alla Soria poi nelle pagine interne lo vedremo tra poco Fano droga a fiumi c'era anche il supervisore che teneva sotto controllo la zona di Fano e poi in evidenza la storia dell'attentato incendiario a Fano TV la Zaccarelli si difende dimostrerò che non centro posizione delicata di Drudi in camera di commercio i telefoni oggi c'è l'incarico ai periti e dunque oggi i telefoni verranno tra virgolette metaforicamente aperti per vedere che cosa c'è dentro e allora cominciamo dal caso come lo definisce il resto del Carlino il caso Fano TV oggi il giorno più lungo del presidente il presidente Alberto Drudi che è il marito di della Zaccarelli che è indagata per come mandante per l'attentato a Fano TV oggi presiderà Drudi il consiglio camerale il ruolo difficile del presidente la solidarietà di alcuni gli attacchi invece di altri tra l'altro c'è un retroscena che questa mattina il giornale riferisce ci sono tutti particolari in questo in queste due pagine io mi limitano semplicemente alle cose più in evidenza il retroscena di alcuni mesi fa le forze dell'ordine in maniera molto discreta si erano già interessate all'amicizia della moglie proprio perché questa è una storia delicatissima soprattutto sotto il profilo personale per quest'uomo che rappresenta la seconda carica della città di Pesaro subito dopo il sindaco perché perché il presidente della camera di commercio rappresenta l'istituzione che raggruppa tutte le forze economiche attraverso le associazioni di categoria e non solo e dunque c'è questa indiscrezione che proprio perché cioè il presidente della camera di commercio non è uno qualunque insomma le forze dell'ordine in maniera molto discreta siano già interessati a questa amicizia relazione scrive della Zaccarelli con il collaboratore di Fano TV la scadenza a settembre finisce il suo mandato da vertice dell'ente camerale da lui occupato esattamente da 20 anni quindi scrive il giornale praticamente come fosse un regno e quindi certo questo accade in una in un momento un po' delicato la pagina invece di Pesaro primo piano la pagina 5 mette in evidenza invece quello che ha scritto l'avvocato illegale difensore della signora Antonella Zaccarelli che vedete in questa immagine e che cosa dice intanto dimostrerò la mia estraneità creare colpevoli ora è un gioco c'è una lettera della signora Zaccarelli che dice difficile difendere la propria innocenza poi però il resto del Carlino fa notare un precedente che in pochi sapevano o comunque in pochi ricordavano ed è questo nel 2007 la signora Zaccarelli viene condannata a tre mesi il reato è danneggiamento perché c'è un'accusa c'era un'accusa nei suoi confronti che era quella di aver rigato l'auto di una collega e poi il botta e risposta che vi invito a leggere il botta e risposta tra il resto del Carlino e l'avvocato illegale della Zaccarelli che è Nadia Biagiotti che scrive parla del tenore dell'articolo di ieri con chiaro intento scrive il legale di ricerca di impatto mediatico che comporta una grave violazione della dignità onorabilità ed immagine pubblica della mia assistita ancor più in quanto associata alla descrizione di condotte mai compiute ed insinuazione di carattere privato assolutamente infondate poi chiaramente va avanti la lettera il Carlino risponde e scrive il Carlino ha riportato gli atti di un'inchiesta che coinvolge la signora Zaccarelli che ha subito una perquisizione le condanne le danno i giudici non i giornali ma i giornali in democrazia non possono attendere le verità giudiziarie danno conto dei fatti e delle ipotesi investigative prima e comunque questa è la storia sulle pagine del resto del Carlino di questa mattina le due pagine la resegna stampa prosegue adesso con la pagina di Fano e la pagina di Fano del Carlino che mette invece in primo piano il Cecchi e il boom di iscritti a Pesero mentre a Fano sono sparite le aule mentre si aspetta lo che è del Ministero c'è il problema adesso degli spazi gli ostacoli sono all'ex succursale di San Lazzaro del Battisti ci sono anche gli studenti del liceo artistico a Polloni in liquidazione invece la società Madonna Ponte che è la proprietaria dell'area dell'ex zuccherificio di Fano in liquidazione dallo scorso mese di marzo nel ruolo di liquidatore il commercialista fanese Tommaso mercanti a cui sarebbe stato affidato il mandato di aprire un dialogo con l'amministrazione comunale di Fano in un estremo tentativo di trovare una soluzione per lo sviluppo dell'area che tenga insieme le esigenze imprenditoriali con gli interessi collettivi mentre sulle terme di Carignano parla Mulazzani che aveva il 20% nella società e dice oggi nell'area delle terme a Carignano meglio coltivarci i cavolfiori. La cronaca invece restati i pusher dei passeggi e del Vallato, due quartieri della città di Fano, operazione dei carabinieri messi in guardia dalle famiglie che frequentano i giardinetti, gli eroinomani circolavano, anzi ciondolavano come zombie, aggiungo, tutto il giorno nei luoghi di spaccio aspettando i fornitori perché qualcuno sgamato aveva evitato di portare con sé il cellulare, di utilizzare il cellulare per comunicare e quindi l'accordo era quando ci sono mi vedete, aspettatemi e quando arrivo sono lì, vi do tutto quello che vi serve e quindi sta gente andava avanti e indietro per i giardinetti in attesa che arrivasse il fornitore di droga. Poi invece c'è un'altra operazione che è stata conclusa da Compagnia Carabinieri di Ancona ed è una, sempre che riguarda il traffico di droga, questa volta dalla Campania. In manetta ci è finito anche un basista, un basista fanese, da Torre Annunziata fino alla foce del Metauro, scominata l'intera banda. Cambiamo giornale, andiamo sul Corriere Adriatico, questa è la prima pagina di Fano, il primo mare, parliamo della spiaggia della Sassonia che è stata mangiata, la spiaggia di Sassonia è stata mangiata dal primo mare di Levante. Ecco l'effetto dell'erosione per la posa parziale delle scogliere, questo sarebbe il risultato. Però il sindaco ieri in diretta qui su Fano TV ha parlato di questo argomento, quindi se volete c'è la replica anche in mattinata, potete sentire che cosa ha risposto. Poi guardate questa fotografia, queste due immagini pubblicate sulla pagina di Fano del Corriere, è un capriolo, ormai scominciano a diventare immagini consuete, belle, sempre spettacolari, però ormai ci stiamo abituando a questi caprioli che viaggiano e camminano per i parchi o per le strade addirittura. Qui siamo a Bellocchi di Fano, guardate due fotogrammi di questo capriolo che se ne va a spasso per i campi, per i prati e addirittura qui attraversa la strada. Quindi un capriolo che esplora Bellocchi e attraversa vicino alle case. Disoccupati e corrieri della droga, anche qui un fiume di stupefacenti dalla campagna, svelata una rete di insospettabili, in due anni 22 arresti e 33 kg di coca e hashish sequestrati dai carabinieri. A Muraglia invece solo il nuovo ospedale di Pesaro, Sinistra Unita sposa la tesi delle minoranze, Fano dicono ha bisogno di una struttura pubblica. A Pesaro invece solo cinque vigili per tutta l'estate, così la sicurezza è a forte rischio dalle promesse per i quartieri al taglio degli stagionali. I Cinque Stelle dicono meno personale assunto che a Fano e Gabicce. A Urbino invece il sindaco Gambini, Maurizio Gambini, il sindaco di Urbino ha qualche problemino con i commercianti e anche con gli studenti. Perché? Perché il primo cittadino è stato convocato da un'assemblea degli studenti, che si chiama Assemblea degli studenti per il diritto alla città, però le premesse non sono un granché. E lui dice, categorico, Gambini il sindaco, qui decidiamo noi, non comandano né gli studenti né i commercianti. Soprattutto il tema è sulla movida, sul coprifuoco, sull'orario in cui devono chiudere i locali. Loro propongono, cioè il sindaco, credo, voglia all'una e mezzo di notte, apre al dialogo ma con paletti fermi, mentre i titolari dei locali propongono la chiusura alle due e mezzo di notte, con più sorveglianza notturna. Però insomma è quell'ora che fa la differenza. È sempre a Urbino invece. Sulla questione dei vaccini, Burioni, il professor Roberto Burioni, che tra l'altro originario di Fermignano, però è docente all'Università Vita e Salute al San Raffaele di Milano e si conferma paladino della lotta agli antivaccinisti. Ebbene, dice al deputato del Movimento 5 Stelle, il fanese, pesarese, insomma Andrea Cecconi, ennesima figuraccia mondiale, fa riferimento chiaramente al reportage del New York Times, nel quale, appunto, il giornale americano che ha attaccato Beppe Grillo sui vaccini. Cecconi dice, ma noi siamo contrari solo ai metodi coercitivi della Regione, cioè alle imposizioni della Regione. Per il resto, come dire, non siamo contrari ai vaccini, ma solo al fatto che vengano imposti. Valcesano, ecco dove e come si vota l'11 giugno, Terre Rovedesche sceglie gli eletti, in ognuno dei quattro municipi tre consultori, tra cui il prosindaco. Tra Castello e Secchiello ci sono due vacanze in una, il comune di Mondolfo, il sindaco Barbieri, ha presentato il nuovo sito internet, una nuova applicazione, quella per i cellulari, e il nuovo logo turistico di Mondolfo, dove tra gli elementi di spicco ci sono il Secchiello, il Castello, il mare e il borgo. Dunque Marotta e Mondolfo, due località, insieme come a offrire due vacanze praticamente in una. Da Senigallia l'ultima pagina, selfie mentre rigano le auto a caccia delle baby vandale. Insomma, a Senigallia adesso c'è anche la moda di rigare le auto e di farsi poi i selfie, cioè di farsi le fotografie mentre... e questa volta le protograviniste sarebbero appunto delle ragazze. Alle saline, gara a chi danneggia più vetture. Brunaccioni dice controlli, i controlli vanno intensificati. Oltre ai mezzi rovinati in due circostanze sono stati trovati fusti di birra in mezzo a via del Molinello. E questa è la rassegna stampa con le notizie più importanti, secondo noi, sui quotidiani del Carlino e Corriere, le edizioni di Peso Urbino. Allora, prima di salutarci, per chi ci segue in diretta, sono le 7.30. Allora, siamo in attesa di poter fare questo cambio di frequenza che avverrà nella giornata di oggi. Quindi io vi invito a rimanere sintonizzati su Fanotv oppure di controllare le nostre pagine social di Facebook, la pagina di Fanotv e di Occhio alla Notizia, oppure di controllare proprio il nostro sito occhionanotizia.it perché lì vi diremo più o meno quando faremo questo cambio di frequenza. Ora, immagino che non sia la vostra preoccupazione più importante di oggi, quello del cambio di frequenza di Fanotv, per carità di Dio. Però quando vedrete, sintonizzandovi e cercandoci sul canale 17, che il segnale debole assente, quindi non ci vedrete più, nessuna paura, nessun panico, perché vuol dire che è necessaria la risintonizzazione. Allora, a quel punto, se non avviene in modo automatico, cioè se il vostro televisore non lo fa in modo automatico, fatelo voi manualmente. Bisogna entrare nel menu della televisione con il vostro telecomando. È un'operazione molto semplice, però sai, i televisori non sempre sono intuitivi, quindi ci vuole un po' di pazienza. Fatevi, soprattutto anziani, voi anziani, fatevi aiutare da qualche nipote, dai figli, da qualche vicino di casa, oppure in extremis chiamateci al nostro numero 0721 86 14 33. Noi prenderemo nota, cercheremo in qualche modo di venirvi incontro, di aiutarvi, senza farvi spendere una lira e un centesimo, d'accordo? Quindi oggi c'è questa operazione qua da fare, poi, insomma, tutto dovrebbe tornare alla normalità nel giro di un giorno o due. Non c'è altro, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti auguro l'augurio di passare una serena e tranquilla giornata. Arrivederci. Grazie.